Pierluigi, Loro Piano, impronditore storico nel mondo della moda, siamo qua un mare di gusto e di passione, ecco perché è qua questa sera? Sono qua per partecipare a una serata molto importante per me e per Amanda che si è qualificata e si sta per qualificare per le Olimpiadi, le Paralimpiadi di Tokyo e noi la sosteniamo e riteniamo che lei abbia fatto una cosa meravigliosa. All'altra parte gli amici di Sanremo hanno apprezzato l'attività del centro di Visso che è stato un paese che ha ricominciato dopo il terremoto attraverso una struttura che è stata donata da una serie di industriali, diciamo di amici di Milano per la quale loro hanno ricominciato a produrre loro meravigliosi prodotti e amici con amici siamo arrivati a Sanremo a far gustare le loro cose, le loro eccellenze e non solo le loro eccellenze alimentari ma anche le eccellenze che fanno da tanti tanti anni, direi dal Medioevo, poiché in quelle zone vivevano e si sono sviluppate le lane sopravvissane. E diciamo ecco l'Oropiana dove si è inserito, l'Oropiana ha preso queste lane che erano un pochino dimenticate che nascono in centro Italia, soprattutto sul parco della Sibilla e ha realizzato dei capi di produzione fatti con la lana sopravvissana. Allora queste cose, tutte queste cose si sono unite in una serata che direi meravigliosa qui a Sanremo. L'Oropiana L'Oropiana Grazie.